Musica Urso frena su Gigafactory, sindacati si mobilitano ultimatum del ministro del Made in Italy senza garanzie dell'SIC, fondi del PNRR spostati altrove. Termoli continuerà a produrre, dice il presidente Roberti, in allerta alle sigle dei metalmeccanici. Assegnate le deleghe ai consiglieri regionali, il governatore ha individuato sei consiglieri a cui assegnare i nuovi incarichi, domani in consiglio rendiconto finanziario iscritto in agenda ma ancora in sospeso. Musica Medico aggredito al pronto soccorso, a breve guardie in ospedale, al Cardarelli insulti e spintoni contro il chirurgo di turno, l'ordine dei medici stigmatizza l'episodio, l'ASREM precisa presto interventi sulla sicurezza negli ospedali. Aumentano i danni provocati dai cinghiali, nuovo allarme degli agricoltori in Molise, non si fermano le scorribande nei campi, per col diretti gli interventi sono ancora insufficienti. Automobilismo si corre lo slalom di Campobasso in programma domenica sulla Gildonese, partenza prevista alle 9 nel calcio regionale, domani in campo per la Coppa Italia. Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, bentrovati all'edizione delle 14 del telegiornale. Come avete sentito dai titoli, la notizia più battuta oggi riguarda la Gigafactory e il vertice che si è svolto nella mattinata a Roma e che si è concluso poco fa, un vertice al quale hanno partecipato tutte le parti. Il ministro Urso ha detto che se non ci sono garanzie da parte di SICI sarà costretto a spostare i fondi del PNRR che erano dedicati all'azienda in fase di realizzazione a Termoli. Il Termoli continuerà a produrre motori, ha detto invece il governatore Roberti. La situazione comunque è tutta da decifrare ed è in evoluzione e i sindacati sono ovviamente in allarme. Ci dice tutto e ci racconta come è andato l'incontro Andrea Nasillo. Nubi fosche sul futuro dei lavoratori e della Gigafactory prevista a Termoli. Il vertice al ministero tra governo, sindacati, azienda e regione ha rimarcato l'incertezza e il SICI ha dichiarato che sta procedendo con le attività di ricerca e sviluppo per la produzione di nuove celle meno costose e più efficienti, ma solo a inizio 2025 dovrebbe avere pronto un nuovo tipo di batterie da fornire a Mercedes e a Stellantis, così da poter finalmente avviare gli investimenti a Termoli e in Germania. Stellantis ha assicurato in linea di principio che con la produzione degli attuali motori garantirà la continuità della fabbrica di meccaniche di Termoli, ma vanno individuati nuovi prodotti in grado di compensare il progressivo calo dei volumi e la preannunciata fine del FAIR. Oggi si ricorre in maniera massiccia all'utilizzo di ammortizzatori sociali e si sia mostrato incertezza per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, il ministro Urso ha comunicato che procederà a ricollocare i fondi previsti per la realizzazione del sito produttivo di Termoli verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto, al fine di avere certezze sull'utilizzo delle risorse europee. Al contempo, Urso ha assicurato che il governo è disponibile, ha detto il ministro, a valutare di destinare ulteriori fondi di altra natura al progetto quando essi si sarà in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli comprensivo della nuova tecnologia. I sindacati si preparano alla mobilitazione. Il prossimo incontro al Mimit è previsto entro ottobre ma le parti sociali non accettano l'incertezza e il progressivo declino sostengono in una nota condivisa in cui versa lo stabilimento di Termoli. Una situazione molto difficile. Il prossimo appuntamento è persino ottobre. Intanto noi non possiamo stare fermi ad aspettare, il territorio non può aspettare e soprattutto i lavoratori e le loro famiglie. Quindi invitiamo fin da ora a organizzarci per una mobilitazione importante che avverrà sicuramente nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni saranno decise le forme di una mobilitazione che ha l'obiettivo di chiedere a dei sissi di sciogliere le riserve sulla costruzione della Gigafactory, a Stellantis di rafforzare l'attuale produzione di motori e al governo di mantenere a disposizione di Termoli i fondi indispensabili al rilancio di un grande progetto industriale che salvaguardi l'attuale e la futura occupazione. C'è delusione, c'è ramarico, mancano conferme, mancano certezze sia da parte di ACC col piano di investimento e sia da parte dei Stellantis col piano industriale a salvaguarda dell'occupazione delle produzioni. Questo per noi sindacati resta inaccettabile. Il nostro impegno alla tutela dei luoghi di lavoro, dell'economia di un'intera regione e di una possibilità di sviluppo industriale per l'intera Italia rappresentata appunto dai sissi e la seconda o terza Gigafactory sul territorio europeo. Torneremo a fare assemblea con i lavoratori e decidere insieme a loro i prossimi passi. Il ministro Urso ha assicurato che avvierà un tavolo nazionale al fine di capire, secondo lo stato attuale delle cose, su quali produzioni stellanti si intenderà proseguire la propria attività. Da parte nostra, detto il governatore molisano Francesco Roberti, qualora dovesse essere necessario, anche la regione molise è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Ci sono le prime reazioni della politica per il consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. si tratta di una sentenza definitiva sul futuro dello stabilimento di Termoli e di centinaia di lavoratori. La questione, ha detto Facciolla, è importante e ha contattato il senatore abruzzese Michele Fina per iniziative immediate da assumere sul piano nazionale. Intanto, in consiglio regionale sono sei i rappresentanti della maggioranza che hanno ottenuto incarichi di governo dal presidente Roberti. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane. Sentiamo quali nel servizio di Pasquale Di Bello. Cambia il quadro politico regionale e l'assetto di governo. Dopo giorni di indiscrezioni, ricostruzioni e riflessioni arriva l'ufficialità della notizia. Il presidente della regione molise, Francesco Roberti, ha proceduto all'assegnazione di una copiosa lista di deleghe ai consiglieri regionali. Nei giorni precedenti l'iniziativa era stata anticipata dalla revoca di altrettanti incarichi agli assessori che compongono attualmente la giunta. Ma andiamo per gradi. Intanto, vediamo chi sono i promossi. Si tratta di Roberto Di Baggio, al quale vanno ambiente, personale, istruzione e formazione professionale. Roberto Di Pardo, al quale sono state assegnate le deleghe all'urbanistica e pianificazione territoriale, trasporti e politiche sanitarie. Armandino De Gidio si occuperà di agenda digitale, sport e semplificazione amministrativa. Stefania Passarelli, alla quale vanno le politiche sociali, terzo settore, immigrazione, famiglia, inclusione, giovani e parità. Massimo Sabusco si occuperà invece di sistema idrico integrato e sistema idroelettrico. Resta fuori dal riparto il solo consigliere regionale, Nicola Cavaliere. Questa è la mappa delle deleghe. Quanto alle ragioni che hanno portato a tale scelta, spiegarle è lo stesso Roberti. Si tratta di una modifica fondamentale, ha detto il Presidente della Regione, che consente una maggiore e più equa distribuzione degli impegni istituzionali, di rappresentanza e di lavoro per raggiungere gli obiettivi del Governo regionale. Roberti ha poi voluto precisare due aspetti. Il primo è la modifica al regolamento della conferenza delle regioni alle cui commissioni potranno partecipare con diritto di voto i consiglieri delegati. Il secondo riguarda la continuità tra il lavoro svolto in precedenza dagli assessori già titolari delle materie trasferite e i nuovi consiglieri delegati alle medesime. Il lavoro svolto, ha concluso Roberti, dovrà trasformarsi in un report periodico da sottoporre alla sua attenzione. E domani tra gli argomenti in discussione in Consiglio regionale l'accordo per lo sviluppo di coesione sul super bonus per le zone terremotate, la revoca del provvedimento della demedicalizzazione della postazione dell'ospedale di Agnone e la riattivazione del 118 col medico in presenza e sul reintegro dei lavoratori licenziati alla mensa del Cardarelli. In aula anche il rendiconto generale per 2022-2023 iscritto in agenda ma con molta probabilità slitterà anche in questa seduta. La cronaca ora con l'aggressione che si è verificata nei confronti del medico di turno al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. L'ordine dei medici e cittadinanza attiva stigmatizzano l'accaduto intanto dall'ASRE ma arriva la precisazione che a breve gli ospedali di Campobasso, Iserni e Termoli saranno dotati di una guardia. Sentiamo. Urla, insulti e il tentativo di colpire il medico di turno nel pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso con tanto di video opportunamente girato durante la scenata. Protagonista del tentativo di zuffa, il marito di una paziente che aveva svolto degli esami in radiologia e che quando la donna è tornata nei locali del servizio di emergenza al piano terra ha dato in escandescenze. Alcuni infermieri si sono frapposti fra l'uomo e il medico che ha evitato i colpi dell'aggressore. Nei locali del pronto soccorso si sono vissuti attimi di grande tensione e concitazione. Poi l'arrivo dei carabinieri è anche un atteggiamento di professionalità da parte del chirurgo che ha ripreso a dialogare con la persona che aveva tentato di colpirlo e che si è poi ripetutamente scusato per aver perso i lumi. Siamo usciti a braccetto, ha dichiarato a 24 ore dall'accaduto il medico che ha subito l'aggressione. Tutto però è stato verbalizzato e la registrazione video è ora in possesso dei legali dell'azienda sanitaria che ha presentato un esposto. Quello che è successo, ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei Medici Pino De Gregorio stigmatizzando l'episodio, ripropone in termini perentori il tema della sicurezza dei camici bianchi il nemico, ha precisato De Gregorio, è la malattia, non il medico. Anche Cittadinanza Attiva ha sottolineato la necessità di salvaguardare un ambiente quello ospedaliero e delle guardie mediche che negli ultimi tempi sono diventati bersaglio di persone violente. Proprio ieri il direttore dell'azienda sanitaria regionale Giovanni Di Santo ha ribadito che a breve i presidi saranno dotati di guardie giurate in servizio nei pronti soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli. Il segretario regionale dell'UGL Giovanni Colacci è intervenuto sulla questione della carenza di personale negli ospedali. Gli operatori, ha detto, sono allo stremo, mentre in Europa molte nazioni hanno cominciato a usare un modello sanitario unificato, migliorando le competenze, la gestione e le retribuzioni. Il sindacalista dell'UGL ha detto che l'unica strada percorribile è quella di denunciare il loro demansionamento e il Molise deve adeguarsi agli standard nazionali. Torniamo alla politica, è un intervento a tutto campo, quello di Roberto Gravina sul futuro del Movimento 5 Stelle. È cambiata la società, è cambiato lo scenario, ha detto, piena adesione alla linea di Conte. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. I tempi duri non torneranno più. E' questa la traduzione di una canzone molto conosciuta del folklore americano e potrebbe fare da titolo all'intervista con Roberto Gravina nella quale l'ex sindaco di Campobasso e oggi consigliere regionale del Movimento 5 Stelle analizza le prospettive della creatura alla quale hanno fatto da Levatrici, Grillo e Casaleggio ma poi affidata alla balia di Giuseppe Conte. Dopo una parabola in discesa il Movimento da qualche settimana sta riprendendo quota. Questo, dice Gravina, creando un neologismo efficace perché non siamo disponibili a nessun mischione. Il riferimento a Renzi è evidente. E' fisiologico che ci sia una fluttuazione di quello che può essere il sentore dell'elettorato. E' un lavoro importante quello dell'Assemblea Costituente che vedrà poi la conclusione di tutto questo grande lavoro che si sta svolgendo a ottobre. E crediamo che le proposte, la serietà delle proposte, soprattutto non rincorrere il consenso a tutti i costi. Insomma, credo che così come è impostata dal Presidente Conte ma anche da tutti coloro che stanno lavorando a questo percorso possa in qualche modo testimoniare quella serietà e quell'attenzione verso i più deboli ma anche verso, diciamo così, emancipare il Movimento 5 Stelle anche verso altre direzioni. Quindi il mondo dell'impresa, del lavoro che è fondamentale e centrale per dettare un'agenda che in qualche modo riesca a creare sviluppo in questa terra in particolare tanto ne abbiamo bisogno così come poi a livello nazionale. Che cosa resta? Se ne resta qualcosa del Movimento 5 Stelle della prima ora? Ma resta intanto non siamo, diciamo così, troppo favorevoli a mischioni politici resta anche, io penso, la serietà, la trasparenza di quelli che sono gli eletti che fortunatamente, almeno per ora, ripeto, non c'è mai stato nessun tipo di indagine che poi abbia portato ad una condanna salvo ipotesi che conosciamo che riguardano l'ex sindaco Appendino ma per fatti ben circostanziati e crediamo che questo sia già un punto di partenza importante però poi anche la serietà di una condotta, della proposta politica che, ripeto, non rincorre il consenso della prima ora ma che oggi si strutturi in modo più duraturo e soprattutto più credibile. La lite Grillo Conte e le ripercussioni interne sono oggetto quotidiano della cronaca politica Gravina, pur sposando la linea Conte auspica una ricomposizione della frattura Io penso che anche, insomma, il presidente Conte abbia ben chiarito che non c'è nessun conflitto almeno da parte sua c'è un processo costituente che chiede praticamente la partecipazione di tutti gli iscritti e anche dei non iscritti perché poi anche questo è importante e, insomma, su questa direzione è chiaro che sembra come se si voglia in qualche modo indurre i votanti o comunque gli iscritti a fare una determinata scelta è un processo democratico, ripeto il Movimento 5 Stelle è ovvio che è cambiato ma perché è cambiato il contesto nel quale era nato oggi siamo in un contesto completamente differente quindi rifarsi al passato, sicché è semplicita è un po' come dire, ributtare la palla non avendo tante argomentazioni credo che la conflittualità se è una dialettica è un conto la conflittualità poi speriamo ciò non avvenga si addensano nubi nere sulla riconversione dell'ex sito industriale di Pozzilli dopo l'incontro tra i sindacati e i vertici dell'azienda ce ne parla Davide Gambardella se entro fine settembre Enea non dovesse presentare il parere relativo alla ricerca sul progetto di riconversione del sito industriale di Pozzilli Unilever potrebbe fare un passo indietro e ritirarsi dalla joint venture con Seriplast la speranza rappresentata dalla nascita di P2P potrebbe arenare definitivamente c'è pessimismo tra i rappresentanti delle sigle sindagali dopo il vertice con la proprietà dello stabilimento in provincia di Sernia dopo tre anni d'attesa la multinazionale britannica avrebbe lanciato segnali di stanchezza nonostante i vincoli che la legano al progetto adesso potrebbe decidere di defilarsi qualora non dovesse arrivare il via libera di Enea per accedere al Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione un impasse che rischia di bloccare anche la cassa integrazione in scadenza il 31 dicembre 2024 un limbo che preoccupa i sindacati che adesso lanciano appelli alla politica regionale Se Unilever dovesse vedere un ulteriore prorogo almeno questo è quello che ci hanno raccontato oggi dello slittamento del progetto potrebbe fare un passo indietro se questo dovesse succedere sarebbe veramente la rivoluzione di tutto il progetto che ha avuto tre anni di sacrifici da parte di tutti quanti in primis dei lavoratori l'assessorato alle attività produttive l'assessorato al lavoro sono in primis quelli che ci possono dare una mano a avere un canale preferenziale nei confronti del Ministero e dell'Enea che è l'ente principale che si deve occupare dello scioglimento di questa riserva Unilever ha già espresso fine anno scorso quindi 2023 il suo parere negativo ed ostativo all'elargizione di questa integrazione salariale per l'anno 2025 anche perché riteneva più che opportuno un tempo di due anni per una riconversione industriale e che invece non vede il suo punto di arrivo massimo Le modalità per l'impostazione della proroga della Cassa Integrazione al 2025 arriveranno sul tavolo dell'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti Noi dobbiamo solo cercare di spingere la politica regionale che critica i sindacati fare in modo di capire se questo progetto ha l'avvallo dell'Enea dopodiché se l'Enea dà un parere negativo stiamo parlando di 60 licenziamenti e di una nuova azienda che già ha chiuso in passato e toglie definitivamente la speranza a 60 lavoratori Aspetteremo anche la fine di settembre però hanno messo sul tavolo anche un elemento importante che crea allarmismo tra i lavoratori cioè che Unilever è stanca di questa attesa per la riconversione e quindi questo preoccupa molto perché se non c'è Unilever significa che sicuramente casca tutto Oggi alle 15 i funerali di Martina Sassi la ragazza morta a Isernia a soli 17 anni dopo una lunga malattia la vediamo nella foto i funerali sono in programma nella chiesa di San Giuseppe lavoratore tantissimi messaggi sui social per ricordare la ragazza anche la dirigente scolastica del liceo scientifico Ettore Maiorana Carmelina Dinezza le ha dedicato una lettera che è pubblicata oggi sul portale della scuola coraggiosa innamorata della vita ha detto ha affrontato un percorso sempre in salita durissimo e doloroso non abbandonando mai la speranza e l'ottimismo ha ricordato la dirigente scolastica sono in costante aumento le scorribande dei cinghiali nelle città ma quello che preoccupa di più è la crescita dei danni provocati alle colture nuovo allarme della col diretti sentiamo Tonino Danese danni sempre più ingenti nei campi e altri incidenti stradali l'emergenza cinghiali che ormai vengono avvistati sempre più spesso anche nei centri abitati non accenna a placarsi nonostante l'avvio della caccia di selezione a sottolinearlo la col diretti molise che definisce insufficiente la politica venatoria regionale e il sistema di gestione fin qui messo in atto e torna a chiedere che si intervenga subito nella revisione della legge e dei regolamenti di settore recependo le nuove normative nazionali che continua l'organizzazione di categoria prevedono un'attività di controllo straordinario su tutto il territorio regionale compresi i parchi e le aree protette senza alcun impedimento da parte di Ispra l'istituto superiore per la protezione ricerca ambientale per tutto questo tempo aggiungono da col diretti molise si è continuato a ragionare come se la selezione fosse un altro tipo di attività venatoria e non come un'azione di riequilibrio ambientale non è più tollerabile che gli organi preposti continuino a temporeggiare o peggio ancora ad ostacolare nell'affrontare questa emergenza col diretti molise sottolinea poi il rischio peste suina anche se fortunatamente nessun focolaio è stato riscontrato nella nostra regione dove ci sono circa 140 allevamenti specializzati e 3550 caratteri familiare per un totale di oltre 35.000 suini a fronte di una presenza sottostimata di più di 40.000 cinghiali in via precauzionale auspica il sele controllo e una condivisione di intenti tra le parti dal comune di Roma intanto ribadiscono di trasformare il problema in un'opportunità creando una filiera certificata che garantisca un consumo di carne e di selvaggina sicuro e regolamentato un discorso avviato anche in Molise in passato e a proposito di cinghiali vi facciamo vedere le immagini di un video che ci è arrivato eccolo qui dovrebbero essere cinghiali investiti sulla bifernina tre da un lato della strada e quattro dall'altro e anche questo insomma rappresenta un pericolo come abbiamo più volte sottolineato quello della presenza dei cinghiali sulle nostre strade e il pericolo ovviamente per gli automobilisti parliamo ora invece del percorso di pellegrinaggio del cammino di San Pio che da Santeria è arrivato a San Giovanni Rotondo più di 150 le persone che hanno partecipato ha seguito la 4 giorni Stefano Ricci tre notti in tenda i primi freddi quattro giornate passate a camminare o trottare a cavallo sotto la pioggia battente per legare il messaggio di San Pio dal suo primo convento Sant'Elia Pianisi a San Giovanni Rotondo l'aiuto mutuo di oltre 150 persone che sono arrivate anche dal nord Italia nell'organizzare tappa dopo tappa unite da fratellanza e devozione 26 anni dopo il cammino voluto da quattro fondatori che oggi lo salutano la partenza è ancora lì con il testimone raccolto dai cavalieri dei sentieri antichi andavamo prima a Santa Lucia a Sassinona e poi abbiamo pensato di andare a San Giovanni Rotondo siamo andati a venire la strada noi abbiamo iniziato così al centotredicesimo chilometro della ventisesima edizione l'emozione è tanta la felicità negli occhi di tutti è tanta ma anche la stanchezza felici tutti felici le vecchie glorie felici chi quest'anno ci ha visitato per la prima volta è felice anche chi ha otto anni lo fa per la settima volta tante voci insieme per un'esperienza che segna ciascuno a suo modo io ne ho sorprese ce ne abbiamo preso proprio tanta 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 vi assicuro che è un paesaggio meraviglioso da fare per chi non l'ha mai fatto dalla Valtellina precisamente nella provincia di Sondrio circa due anni fa abbiamo attraversato l'Italia partendo dalla Valtellina fino a giù a Bitonto ci sono tanti anni che vengo qui per la devozione che abbiamo per il nostro santo la prima cosa poi c'è anche una motivazione personale che mi porta a venire qui ogni anno per i sindaci la partenza come all'arrivo l'emozione è tanta sindaco la partenza è un momento sempre importante l'organizzazione è un'organizzazione favolosa che da 26 anni si impegna scrupolosamente sui minimi particolari la cosa bella come dicevo prima è che si uniscono tanti paesi non è solo Sant'Elia ma c'è anche Pietragatella ci sono persone di Pabottoni Monacilioni è tutto il circondario sinceramente ritengo San Giovanni Rotondo essere onorata da questa presenza perché vedo tanta bella gente tanta gente anche con il volto un po' stanco perché quattro giorni immagino magari le temperature non hanno proprio aiutato tutto il percorso però credo che la stanchezza scompare grazie alla forza al cuore allo spirito che anima un momento così importante padre Rinaldo Totaro guardiano del convento di San Giovanni Rotondo ricorda quando proprio lui era parroco a Sant'Elia quando tutto iniziò sono stato nominato parroco a Sant'Elia Pianisi e abbiamo iniziato questo cammino cavalli cavalieri e pellegrini a piedi è stata una bellissima esperienza il Lions Club di Termoli ha donato alla scuola Campolieti dovremmo avere anche le immagini per un pronto intervento un defibrillatore in caso di emergenza eccole qui il defibrillatore è stato consegnato dal nuovo presidente del Lions suo Alessandra Candela la coordinatrice della scuola Suor Concetta l'idea di realizzare questa donazione è nata da un'esigenza manifestata dalla madre superiore a Suor Lidia Gatti al club Termoli Host che si è reso subito disponibile ha voluto manifestare ancora una volta la sua sensibilità e la vicinanza alle esigenze di un istituto scolastico da sempre operante nell'ambito dell'educazione dei bambini di Termoli e ora parliamo della festa della Madonna della salute a Castelmauro l'evento dell'anno tanto atteso dalle comunità molti pellegrini che arrivano anche dall'estero per noi Andrea Nasillo quattro giorni di festa a Castelmauro una ricorrenza imperdibile tanto attesa dalla comunità per la Madonna della salute momenti di preghiera e di condivisione un evento che fa parte dell'identità del paese e dell'intero territorio e numerosi anche i pellegrini che hanno reso omaggio alla Vergine provenienti anche dall'estero le processioni le celebrazioni eucaristiche musiche e spettacoli pirotecnici non è mancata la tradizionale asta tra i giovani e gli anziani tanto entusiasmo per un momento speciale come sempre riusciamo sempre al meglio a dare il nostro contributo come amministratori con tutti i miei amministratori per la migliore riuscita di questa nostra festa che è la più importante della nostra comunità anche con i nostri nuovi parroci che sono arrivati quest'anno quindi ci siamo trovati molto bene e quindi ringraziamo anche loro e tutti i partecipanti delle organizzazioni della nostra festa la presenza dell'arcivescovo dell'Aquila Monsignor Antonio D'Angelo nato e cresciuto a Castel Mauro ha emozionato la comunità le sue parole hanno toccato il cuore dei suoi concittadini autorità civili militari e religiose hanno preso parte all'evento un appuntamento molto sentito siamo molto contenti come religiosi padri pallottini in questa comunità di Castel Mauro per celebrare questa festa della Madonna della Salute per noi questa esperienza è nuova è bella è molto ricca una comunità che ha una fede in un livello alto che noi sacerdoti siamo molto sorpresi e anche abbiamo imparato la fede dal popolo è una testimonianza grande nella spiritualità che veramente abbiamo goduto in questi giorni fin dall'inizio della novena e prima di chiudere vi facciamo vedere la foto di questo bellissimo gattino maschio di tre mesi è buonissimo è dolcissimo è stato trovato da una ragazza di Campobasso nel bel mezzo di una tromba d'aria vagava senza nessuna meta terrorizzato bagnato e infreddolito momentaneamente sistemato in un garage perché la ragazza ha già molti gatti in casa ma è stato portato dal veterinario ed è stato sverminato e vaccinato con il drastico abbassamento delle temperature non può rimanere lì tutto solo e al freddo ha bisogno di una famiglia l'appello dunque per una adozione chi fosse interessato può mettersi come sempre in contatto con la nostra redazione e con questa notizia chiudiamo l'edizione delle 14 vi ricordo tra poco più di mezz'ora gli aggiornamenti e tutto grazie a più tardi a più tardi a più tardi